siamo a Rocca di Mezzo si riparte per direzione Celano adesso ripartiamo il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 fiste da sci dovrebbe essere ovindoli stazione sciistica sono stronti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh, bello l'acqua. Senti quanto è matto. Scella da in mezzo alle case. Farsi sentire. Si scende adesso. Si scende verso Celano. Scella da in mezzo alle case. Scella da in mezzo alle case. Scella da in mezzo alle case. E' un po' vecchia mi pare. Che attraversano mucche e cervi. Una fauna pericolosa. Sempre più giù. Giù giù. Ambolina mia. Oh, rosso e curve. Forgoncino. Ciamoncino davanti a noi, perché mettiamo il cliccato di caldo? No, no, questo è un foro no, ma Christi, che io per me ricordo questa roba? Facciamo ripassare i video, va? Sì, sentite il suono dell'Arrov? Piano piano centro urbano 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 Infine l'Edemisama! Mega buca! Non è più difficile in questo senso! Non è più difficile! Non è più difficile! Amore! Ma l'Azzi è l'avere! Sono diversi! Noi, siamo diversi! Non ci sono diversi! Non ci sono diversi! Anche la via! Non ci sono diversi! Noi! Non ci sono diversi! Grazie.